Attimi di paura questa mattina intorno alle 8 a Ogebbio in località Cadessino dove venerdì si è staccata una frana. I mezzi erano a lavoro sul cantiere per rimettere in sicurezza la zona quando un furgone per cause ancora al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini è uscito di strada facendo un volo di ben 15 metri nel dirupo. Subito si è temuto il peggio per il conducente rimasto nell'abitacolo, sono intervenuti per liberarlo i vigili del fuoco da Verbagna, pronto anche l'elicottero del 118 e in supporto sono arrivati anche i volontari della stazione Valgrande del soccorso alpino. Alla fine l'operaio è stato liberato, fortunatamente le sue conduzioni non sono preoccupanti, è stato trasportato all'ospedale Castelli di Verbagna in codice giallo con ferite di media gravità.